Sul filo del fuorigioco, Grosso è una palla interessante Difesa ancora decisiva, qui deve tirare e c'è il gol E stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis o del calcetto Vediamo quando si fermeranno Stanno facendo una partita straordinaria, tutto sembra facile, tutto funziona Gli avversari invece stanno contando i secondi che mancano al fischio finale Vorrebbero sparire